Benvenuti in studio per una nuova puntata di Varese e Rosa. Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Lisa Carnelli, benvenuta. Grazie. Presidente dell'associazione Oblo, liberi dentro, un'associazione che da anni lavora all'interno delle carceri proprio per offrire un supporto alle persone che vivono questo tipo di esperienza. In che modo? Allora, l'Oblo nasce tre anni fa, anche se la mia esperienza in carcere è più lunga, ormai ho una pena di lunga durata anch'io e noi ci occupiamo di organizzare all'interno della casa circondariale di Busto tutte delle attività legate al teatro. Facciamo dei corsi di teatro, dei corsi di dramma terapia e negli anni abbiamo organizzato anche molti spettacoli e questi eventi, di queste cene con delitto, siamo alla quarta edizione e che hanno portato più di direi 500-600 persone nel corso dei quattro anni ad entrare in carcere e a vivere un'esperienza ludico teatrale insieme a noi. Appunto, il teatro la fa da padrona con dei veri e propri laboratori teatrali che vengono proposti ai carcerati e che oltretutto negli ultimi anni vi hanno anche permesso di lavorare su un progetto che ha portato questi carcerati fuori dal carcere, quindi non soltanto le persone entrano in carcere per conoscerle, per scoprire questa realtà, ma sono gli stessi detenuti che hanno la possibilità di rivivere, appunto, il mondo esterno rispetto al carcere. Ci sono stati due momenti che per noi sono stati proprio molto importanti, molto belli e sono stati i momenti in cui i nostri spettacoli hanno debuttato al di fuori della casa circondariale. Due anni fa siamo usciti con un gruppo di detenuti che hanno recitato al Teatro Sociale di Busto e quest'anno ad aprile abbiamo ripetuto l'esperienza con uno spettacolo dal titolo Ginestre che ha debuttato ad aprile, uno spettacolo che in realtà ospitava un, anzi, è frutto di un progetto lungo che ha visto al lavoro un gruppo integrato, per cui abbiamo lavorato con un gruppo di attori detenuti affiancato da un gruppo di attori amatoriali che per un anno intero ha seguito il progetto entrando in carcere ogni due settimane e facendo teatro con noi. C'è stato un debutto ad aprile a Busto Arsizio e poi abbiamo appena avuto una replica poche settimane fa, abbiamo iniziato la nostra micro tourne in provincia e siamo stati ospiti del Teatro Nuovo a Varese. Ricordiamo sono circa una decina i detenuti che partecipano a questo progetto, ovviamente tutte persone molto diverse tra di loro che hanno anche delle storie diverse, parlano lingue diverse, e quindi questo rende anche il vostro lavoro, il lavoro di integrazione molto difficile. Molto difficile ma anche molto stimolante direi, sì. La varietà linguistica è una delle molteplicità che si accoglie lavorando in un contesto come quello del carcere. I nostri attori portano tante storie, tanti vissuti profondamente diversi e il teatro è il modo e l'occasione per dare valore ai vissuti di ciascuno. Nello spettacolo Ginestra ad esempio si mettevano in scena tanti momenti tratti da biografie degli attori, dei partecipanti e in particolare sul tema appunto dell'integrazione. Avevamo anche una fiaba raccontata in arabo, avevamo un attore nigeriano che quindi parlava soltanto inglese e ha recitato in inglese, ci sono sempre vari dialetti e la scommessa è proprio quella di cercare di accogliere e cercare di capirsi. E paradossalmente questo in carcere avviene molto spesso perché quando si è costretti ad essere sempre in prossimità di persone che hanno una storia, una cultura profondamente diversa o si va sullo scontro o si va sull'accoglienza e tante volte l'esito è quello di un'accoglienza. Per cui all'interno del carcere tante volte si trova una comunità che è molto più solidale di quella che magari si incontra fuori. Tu parlavi appunto di una sfida, una seconda sfida è sicuramente anche quella di dover riorganizzare di volta in volta lo spettacolo perché non sempre questi detenuti seppur abbiano studiato, si siano preparati, hanno poi l'autorizzazione per poter concretamente uscire dal carcere. Quindi molto spesso sono costretti a lasciare la propria parte a qualcun altro e quindi anche qui torna questo concetto di collaborazione, quasi di rapporto fraterno. Sì, sì, assolutamente. L'ultima volta che siamo andati in scena con lo spettacolo Ginestre sono purtroppo potuti uscire soltanto due dei nostri dieci attori e lì scatta qualche cosa. Questo noi, questo nostro spettacolo diventa più importante del singolo destino e del singolo attore e quindi si crea veramente una rete di collaborazione per cui manca una parte e questo è successo tante volte perché magari si va in scena una mattina e uno ha un colloquio o viene l'avvocato o viene il magistrato e non può esserci e il gruppo si attiva. Dai vieni ma io non l'ho mai fatto lo spettacolo, va bene, vieni lo stesso e c'è una generosità nel mettersi in scena, nel mettersi in gioco che a volte lascia veramente molto stupiti chi ha la fortuna di essere testimone di questi momenti. A volte appunto si dipende in carcere, si dipende sempre dalla volontà e dall'autorizzazione di qualcun altro e la capacità di problem solving viene fuori veramente molto rafforzata insomma. È tutto un trovare delle soluzioni, improvvisare sapendo e continuando a credere in un progetto molto fortemente. Certo, come reagiscono queste persone quando inizialmente chiedete loro di partecipare a questi laboratori? Immagino che quasi tutti arrivino da esperienze completamente diverse e quindi non abbiano mai fatto un corso di teatro, quindi per loro è un'esperienza totalmente nuova oltretutto in un ambiente non familiare perché ovviamente stanno vivendo all'interno del carcere. Sì, mettersi in gioco perché il teatro questo richiede, richiede tanto mettersi in gioco, non è facile. Farlo in carcere lo è ancora di più perché in carcere ci sono tutte delle regole di comportamento per cui è difficile esporsi. Il teatro poi lavora sulle emozioni e quindi è difficile lasciarsi andare. Non lo si fa quando si è in sezione. A volte in teatro c'è la possibilità di farlo, di ricevere quell'abbraccio che magari è anni che non si riceve o di lasciarsi andare a quel momento di rabbia, di sfogo o anche di pianto perché abbiamo accolto anche dei momenti di questo tipo. Certo all'inizio uno arriva perché diceva bene faccio teatro, esco dalla cella, passo un po' di tempo, vedo un po' di altre persone, poi chissà magari esco anche a fare spettacolo. Però poi quando ti trovi a dover fare degli esercizi che magari richiedono appunto di metterti in gioco, delle cose che sono magari un po' imbarazzanti o delle cose che vanno a scavare un po' dentro o trovi un'altra motivazione o scappi. E chi trova un'altra motivazione poi viene agganciato dal percorso e io credo che abbia la possibilità di scoprire delle cose di sé che chissà se gli saranno poi utili per un futuro. Sicuramente che gli permettono di farsi delle domande in quel momento, che poi magari sono anni, che passa in carcere. E qui mi viene in mente anche il nome della nostra associazione. Abbiamo scelto di chiamare Oblò perché tante volte ci avviciniamo al carcere e vediamo queste finestrelle con le grate. E a vederlo da lontano tante volte mi è venuta in mente l'immagine di una nave. Ed è una nave, una nave che fa transitare le persone da una libertà ad una futura libertà. E io credo che sia importante la qualità del viaggio. Di questo percorso. Sì. E noi come Oblò volevamo esserci e contribuire a far sì che insomma questo percorso sia un percorso pieno di senso. Perché se non si trova senso durante quegli anni che si passano in galera si riesce più arrabbiati di prima. Certo, con il rischio anche di ripetere gli errori perché non si riesce ad andare oltre in pratica. Sì, assolutamente. Infatti uno dei problemi del nostro sistema penitenziario è che la recidiva è altissima e quindi ci sono delle domande da farsi sul come viene impostato questo percorso che la Costituzione ci dice deve essere un percorso di risocializzazione. Assolutamente. Immagino anche le forti emozioni che vivono queste persone quando magari dopo anni escono per la prima volta e vivono già di per sé l'emozione del palcoscenico. Quindi avrete sicuramente ricordi legati a queste esperienze. Sì. La prima volta che siamo andati in teatro a Bussarsizio c'è un teatro molto ampio, il teatro sociale, e alcuni dei nostri detenuti sono arrivati ovviamente con la scorta. Quindi sono scesi dal furgoncino, sono entrati in teatro ed era la prima volta che entravano in teatro ed era la prima volta che facevano proprio teatro alcuni di loro. Vengono tanti da vite di strada. E questo attore che poi è un caro amico entra in palcoscenico, guarda l'ampiezza di questo palco, sono 600 posti, e sbianca. E mi dice devo andare in bagno. E io gli dico ma dai ma per piacere ma tu eri a far rapine fino all'anno scorso e adesso sei qui che fa eh ma il teatro è... per cui anche questo... queste grande potenzialità del teatro di dare quella botta di adrenalina che a volte tante persone hanno ricercato in una vita a delinquere. E la domanda che ogni tanto ci facciamo anche con le mie colleghe è se avessero fatto teatro prima. Chissà, magari non sarebbe cambiato niente, però magari un'esperienza artistica che ti dà quelle risposte che magari alcuni giovani, soprattutto i giovani, cercano in altri modi. Certo, infatti qual è l'età media delle persone che poi riuscite a portare sul palcoscenico e che quindi proseguono in questo percorso? Ma è molto varia, è molto varia. Ci sono dai giovani adulti, per cui fra i 20 e i 30, però abbiamo avuto anche degli attori over 50 e over 60. Ricordiamo poi che questo progetto parte anche con la collaborazione di una professionista varesina, una psicologa che ha scritto un libro proprio dedicato all'essere umano. Quindi insomma voi avete un po' preso spunto da questo testo, da questo saggio per diciamo approfondire il tema dell'uomo proprio sul vostro palcoscenico. Questo secondo spettacolo dal titolo Ginestre è ispirato a un libro scritto da Marta Zighetti, che è una psicoterapeuta di Varese appunto, dal titolo Essere esseri umani e il tema è quello della cooperazione, della collaborazione, della compassione, dell'empatia che stanno alla base, fisiologicamente alla base del nostro essere uomini. Noi abbiamo preso alcuni capitoli di questo libro che è un saggio e abbiamo provato a tradurli dando forma artistica e ne sono venute fuori delle scene che sono legate alla storia dei nostri attori. Parlando per esempio di esperienza, che cos'è l'esperienza, che cosa l'uomo fa di quello che vive, sono venute fuori delle scene molto romantiche legate al ricordo della lamette da barba, per cui questi papà che si fanno la barba, un papà lontano e questo attore che dice ora che sono qui avrei solo voglia di tornare da te papà e farti la barba come il nonno, come tu la facevi al nonno. Quindi insomma è stato veramente la chiave d'accesso per riuscire ad entrare in pezzi di storie che magari uno aveva archiviato. Certo, dicevi l'obiettivo è quello di portare questo spettacolo un po' in tutta la provincia, avete già delle date o comunque dei prossimi appuntamenti fissati oltre a quello che vi ha portato a Gallarate? Sì, abbiamo due appuntamenti, il prossimo è a Gallarate appunto all'interno del festival Filosofarti, siamo molto lieti che ci abbiano invitato e poi il 14 di febbraio siamo in scena nel nostro teatro, quindi all'interno della casa circondariale di Busto c'è un piccolo teatro che da un po' di anni apriamo sia un pubblico di scolaresche che ad un pubblico esterno. All'interno della nostra pagina Facebook si trovano un po' di queste informazioni e l'idea è proprio quella di cercare di portare delle persone dentro il carcere, perché crediamo che questo osmosi fra dentro e fuori sia fondamentale per permettere una risocializzazione, perché anche chi è fuori dal carcere in qualche modo deve essere pronto a riaccogliere le persone che prima o poi finiscono la loro pena e noi crediamo che entrare lì dentro e vedere delle persone che recitano, delle persone che cucinano come nelle nostre cene con delitto permetta a chi è fuori e non sa nulla del carcere di scoprire che lì dentro comunque ci sono delle persone e che al di là di un reato ci sono delle storie e ci sono dei nomi e per noi questo è fondamentale. Certo, assolutamente. In bocca al lupo per tutti questi progetti, invitiamo ovviamente i nostri telespettatori a visitare la vostra pagina Facebook e anche a venire a vedere questi bellissimi spettacoli. Grazie, grazie della vostra ospitalità. Grazie, grazie a voi da casa, ovviamente alla prossima puntata di Varese in Rosa. Arrivederci.